Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Guidare con prudenza per la neve in A1 tra Rioveggio e Pian del Voglio e tra Pian del Voglio e Aglio e in A15 tra Borgotaro e Pontremoli. Sulla A15 sono in azione i mezzi Spargisale. In A1 rallentamenti per i mezzi Antineve e Nazione tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna. Rallentamenti per incidente tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Si informa che sulla FIPILI da domani fino a fine giugno saranno in atto dei lavori tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino nei due sensi di marcia. Le tratte interessate sono quelle comprese tra i chilometri 14-800 e 17-400 in direzione mare e 17-500 e 15-100 verso Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!